Un inizio d'anno gelido, glaciale, tocca al marineo scaldare atmosfera e cuori E poi si sa, chi ben comincia, è già a metà dell'opera Da Luigi Zarcone di Villa Abate, oratorio San Ciro e Giorgio Petralia Soprana Se lì per l'oratorio, Montalbano col destro, Montalbano tricarichi la palla e sta lì Daniele Licastri, è suo, il primo gol del 2017, è suo, il gol che sblocca il parziale, 1-0 Prova a partire Costa che mette il turbopallone in mezzo Attenzione, calcio di rigore, avevo visto bene, calcio di rigore Fallo di mano di un difensore delle Petralia che è cadendo, ecco sì, tocca con la mano Dunque penalty per l'oratorio La dischetta ancora Licastri, Licastri, paratricarichi, clamoroso Provando a chiuderla, il marino, adesso Montalbano verso l'area di rigore Prova alla conclusione, Montalbano si è fermato tricarichi ma è gol È un grandissimo gol questo, 2-0 dell'oratorio, Montalbano inventa una magia Tricarichi la battezza malissimo, un gol meraviglioso Licastri in profondità per la barbiera, finale di rigore, la barbiera Tricarichi lo blocca Adesso un forcing del marino, Paolo Costa, palla per lui Il passaggio dentro per Di Peri che salta il difensore, Di Peri, Di Peri Anche lui partecipa alla festa del gol, 3-0, partita chiusa E finisce qui, finisce 3-0, poteva essere ancor più netto il risultato dell'oratorio però va bene Perché sono tre punti fondamentali che permettono alla squadra di Tilotta di salire al terzo posto